Oggi andiamo avanti con il capitolo sulla crocefissione di Gesù ed eravamo arrivati al punto in cui aveva lasciato il corpo. E qui Saudi ci spiega che il motivo per cui deve essere distrutto è perché devono comprendere con altri mezzi. Che cosa succede allora? La gente scopre che il corpo non c'è più. Vedi e usanza dopo qualche giorno che il corpo sia unto ancora. Sua madre e sua cugina erano lì per farlo. La tomba venne aperta ancora una volta con le guardie lì presenti ma scoprirono che era vuota. Sua madre era venuta con un'altra donna? La Bibbia non dice che la madre di Gesù era una delle donne che vennero al sepolcro. Parla di Maria Maddalena, Maria la madre di Giacomo e l'altra Maria, a secondo della versione del capitolo che si sta leggendo. Deve essere stato molto difficile vedere il corpo, credo, specialmente dopo diversi giorni. Sarebbe un atto d'amore, non è vero? E chi potrebbe essere più disposto a fare tale atto d'amore di una madre? Ma chi aprì il sigilio? I soldati aiutarono ad aprire il sigilio. Che cosa pensarono quando videro che il corpo non c'era più? Naturalmente dissero che qualcuno era riuscito a passare e aveva rubato il corpo. Ma che dire? Il sudario era ancora lì, con le macchie di sangue, e tutto era come lo aveva lasciato. Inoltre il sigilio non era stato rotto, giusto? No. Come si sentiva la madre quando scoprì che il corpo non c'era più? Sapeva che se n'era andato. E lo stanno preparando per andare avanti. Gesù andò avanti o rimase nei paraggi? Per un po' rimase perché doveva andare da quelli che credevano in lui e dirgli «Non temete, sappiate che tutto è come avevo predicato». Doveva fargli sapere che aveva detto la verità e per far ciò doveva mostrargli di esistere. Parli come se stesse parlando con loro. Potevano vederlo e sentirlo? Sì, perché hanno questa capacità. Tutti coloro che si aprono hanno questa capacità e possono vedere. Molti lo fecero. Pensi che lo vedessero come una persona fisica? Sì, ma non uno che è diverso. Più come uno degli esseri di luce che come un corpo terreno. Non del tipo che si possa toccare con la mano perché passerebbe attraverso. Ma erano in grado di vederlo? Sì, per sapere che era tutto vero. Ha ancora dei segni sul corpo spirituale. Stavo pensando alle stigmate dei chiodi. Sì, per un po' devono riflettere le cose che sono state fatte. Perché questo era un modo di dimostrare loro che era davvero chi diceva di essere. C'era qualcuno che dubitava. Come può non esserci un po' di dubbio nell'uomo e la sua natura? Questo è il motivo per cui ancora aveva l'immagine, per così dire, delle stigmate per dimostrare chi era? Sì, anche gli altri riescono a vederlo. Abbiamo sentito molte storie. Alcune di queste dicono che apparve col suo corpo fisico camminando sulla terra. È così che lui è in verità, piuttosto di come lo conoscevano. Il corpo fisico era in pratica completamente anichilito, per così dire. Sì, ridotto in polvere e cenere. Questo ha più senso, ridotto in cenere. Sembrava che la storia dell'angelo che fece rotolare via la pietra fosse solo una copertura inventata in seguito dai soldati per salvarsi la pelle. Inoltre, sembra ovvio che nel corso degli anni il vero miracolo della risurrezione fu oscurato dalle molteplici storie messe in circolazione. A mio parere, questo miracolo fu la disintegrazione del corpo fisico e la manifestazione del corpo spirituale. Siccome lo avevano visto in tanti, forse speravano di dimostrare la continuità della vita dopo la morte, proprio perché il suo corpo fisico non c'era più. Questo punto cruciale sembrava essere stato offuscato e confuso dal dogma religioso che viene prodotto nel corso degli anni. Saudi aveva ragione, centinaia di persone sono tornate nei loro corpi fisici dopo esser stati dichiarati morti. Questo fenomeno non è unico, come le chiese vogliono farci credere. I maestri, inoltre, volevano dimostrare l'inutilità del corpo fisico. Hai fatto ceno agli esseri di luce. Cosa significa? E' questa la natura della persona quando si lascia il corpo fisico? Si tratta di quelli tra di noi che sono al di là della necessità di ritornare, il cui prossimo gradino è di essere di nuovo uno con Dio. Sono quelli che vengono, ci aiutano e ci guidano in molti modi nel dirigere il nostro percorso. Come è successo a Gesù? Alla fine è tornato a stare con gli altri, i maestri e il nostro Dio come noi lo conosciamo. Ci fu nessuno che vide questo. Mentre succedeva, si dice che sua madre era lì. Viderò che era una fusione di luce e poi non c'era più. Mentre andava sull'altro piano, e questo è il modo corretto di dirlo? Sì, dove si trova Gesù ora? E' sullo stesso piano dove sei tu. E con i maestri non è qui. Io non sono minimamente vicino a quel livello. Sai dove è quel livello? Almeno il nonno, molto vicino al decimo. Quanti livelli ci sono in tutto? Dieci è la perfezione. Se lui è a quel livello, non avreste alcun modo di vederlo ora, giusto? A meno che non venga al nostro livello, no. Capisco. Abbiamo sentito storie che dicono di averlo visto. Non ne dubito. Intendo molti anni dopo che se n'è andato, che aveva lasciato la terra. Per noi di qua un anno è solo un istante. Quindi perché no? Quindi lui permetterebbe alle persone sulla terra di vederlo? Se volesse. Se ci fosse qualcosa che qualche individuo dovesse fare e ancora avesse dubbi, non si rivelerebbe forse a costui, facendogli sapere che stavano credendo nella verità. Per aiutarli a secondo del loro sistema di credenze, qui Saudi stava mostrando frustrazione cercando di farci capire. Trovo molto difficile. Se ci fosse un obiettivo importante per questa persona, come ad esempio diffondere la parola che lui è esistito o per condividere con gli altri, non si rivelerebbe a loro in modo da fargli sapere che ciò in cui credono è giusto. Pensavo che fosse era occupato in altri livelli e che non sarebbe disceso mai sulla terra per cose del genere. Se non avesse cura dell'uomo, non sarebbe mai venuto fra noi. Puoi dirci i motivi della sua morte per crocefissione? Nel nostro tempo, o da dove stiamo guardando, si dice che sia morto per i nostri peccati. C'è un certo disaccordo a proposito. Perché siamo responsabili delle nostre azioni? Stava sospirando. Questa è una domanda molto pesante. Suppongo che abbia molte risposte. Ci sono molte influenze su queste risposte. Doveva essere crocifisso per essere ridicolizzato dagli altri, per dimostrare che alla sua resurrezione sarebbe stato in grado di superare ciò e che anche noi siamo in grado di farlo. Questo è qualcosa che lui aveva bisogno di vivere per le sue lezioni personali, proprio come per gli altri significati. Non era ancora perfetto, o perlomeno non così perfetto come gli altri assumevano che fosse. Era disposto a sopportare le pene e dimostrare che non dobbiamo avere paura e che, pagando per ciò che abbiamo fatto, possiamo andare oltre. Questo fa parte del ragionamento dietro a tutto ciò, cioè per dimostrare che l'uomo può farlo, che l'uomo può fare cose del genere. Quindi, quando si dice che è morto per i peccati di tutte le persone nel mondo ha senso, come potrebbe morire per i peccati di qualcun altro? Ognuno deve pagare per il proprio, se non questa volta, allora la prossima o forse anche la successiva. Ma in ultima analisi è necessario sopportare ciò che abbiamo fatto, sopportare gli altri. Quindi la sua vita e la sua morte non spazzano via i peccati altrui. Esisterà una legge della grazia, ma non è perché lui ha pagato per i suoi peccati, ma perché lo accetti come degno e perfino come messaggero di Dio. La legge della grazia ha a che fare con l'amore di Dio per noi, non perché lui morì per i nostri peccati. Bene, quindi le persone interpretano male questo, non è vero? È molto probabile. L'uomo interpreta male molte cose. Dobbiamo cercare di essere come lui. Ma questo non significa necessariamente che dobbiamo seguirlo fino ad adorarlo. E' il suo esempio che abbiamo bisogno di emolare, giusto? Questo è corretto. Lui è quasi al punto di adorazione perché poteva farlo e ha dimostrato che si poteva fare, perciò ci si deve meravigliare di lui. Ma non adorarlo. Non dobbiamo deificarlo perché siamo tutti parte di Dio. pensi che voglia essere adorato? Lui vuole essere ricordato, ma forse non nel modo in cui molti lo ricorderanno. In sostanza ciò che aveva in mente era il concetto di una guida, uno spirito guida per portare le persone ad una maggiore illuminazione, per aiutarli a raggiungere un potere superiore, per aiutarli a diventare più spirituali nelle loro percezioni. Lui si considerava principalmente un aiuto, una guida, un esempio, come un buon amico che sta aiutando con consigli giusti. Ci sono molte persone che lo riconoscono come un Dio vero e proprio, è difficile pensare a lui come un essere umano. Siamo tutti parte di Dio. Alcuni di noi ne sono più consapevoli rispetto ad altri. Direi che è una di queste persone, ma divinizzarlo e considerarlo separatamente così, questo è sbagliato. E Dolores dice qui, questo è ciò che ho paura che le persone faranno in futuro. Divinizzeranno lui e anche sua madre perché lei era la madre. Se questo significa che così facendo vivranno come loro, questo è bene. Ma se questo significa che invece li trasformeranno in Dei e poi diranno, siccome sono così saggi, mi perdoneranno per qualsiasi cosa che faccio e continueranno a farlo in ogni caso, questo è un grande errore. Lui era solo consapevole e conosceva in molti modi ciò che possiamo fare tutti noi. E lo era anche lei. Semplicemente ci vuole molto sforzo per riuscirci. Era il tipo di persona che incoraggiava gli altri a ragionare con la propria testa o piuttosto a seguire ciecamente. Ma è seguire alla cieca. Sempre mettere in discussione. Pensare con la propria testa rende la decisione tanto più grande perché è stata creata invece che ricevuta passivamente. Se uno non mette in discussione, non ha fede. Perché non si può pensare a certe cose se non le si guarda e discute da tutti gli angoli. Poi quando uno ha fatto questo sforzo, se pensa che sia bene, allora vale la pena di crederci. Alcune persone dicono che ogni volta che si mette in discussione questo è il lavoro del diavolo. Avete un diavolo nella vostra società. E qui Saudi stava sospirando. Non esiste il diavolo. Delicatamente ma con fermezza come se stessere parlando con un bambino testardo. Dentro di noi ci sono due parti. C'è la parte interrogativa che può essere portata a fare degli errori ma c'è anche una parte molto positiva nel senso che ci fa pensare alle cose e alle persone. Perché non tutte le persone sono buone. Accetteresti una persona superficialmente se ti sorride ma poi ti giri e ti infila il coltello nella schiena? È necessario mettere in discussione le cose ma si deve anche avere fede. È stato dimostrato che questa è la verità. È possibile avere fede nelle cose. Questo suona come un paradosso ma non lo è veramente. Stava diventando frustrato e era profondamente convinto di questo e stava cercando in tutti i modi di farci capire. Ho capito. Stai facendo un ottimo lavoro ma come facciamo a sapere quando troviamo nuove conoscenze se è la verità? Come si può dedurlo? Stava sospirando di nuovo. La verità potrebbe renderti triste ma da qualche parte dentro di te sai che è la verità. Se riesci ad aprirti sai quando le cose sono vere e quando non lo sono. Questo senso interiore è a tua disposizione. A volte quando scopriamo nuove conoscenze le persone ci dicono che è male. Danneggia qualcuno in qualche modo? È pericoloso? Questo non vuol dire che ti renda triste ma se danneggia qualcuno non può essere veramente bene. Se non è pericoloso prendilo e studialo. Scopri la verità e scopri come porta il bene. Non è forse vero che durante la tua vita nelle sinagoghe e nelle diverse religioni molti di loro ti disserò non mettere in discussione solo accetta. La maggior parte di loro dice così. Sì, è vero. Il tuo popolo era diverso non è vero? Agli esseni piacevano le domande. Sì, puoi dirci se il Cristo tornerà sulla terra in futuro? Sì, Lui tornerà. La gente sarà a conoscenza della sua venuta in anticipo come voi eravate a conoscenza questa volta o Lui verrà improvvisamente. Ci saranno quelli che sapranno. Questa sessione fu molto difficile per Katie. Era molto tesa e emotiva mentre guardava la crocefissione come se fosse estremamente doloroso. Naturalmente quando la risvegliai non aveva alcun ricordo di tutto ciò che aveva visto e si sentiva bene. Mi rendo conto che questa sessione aprirà una grande quantità di polemiche ma penso che debba essere vista ed esaminata per quello che è una visione alternativa di alcuni degli eventi più importanti della nostra cultura. Quello che mi stupisce in questo racconto non è l'inesattezza ma la precisione è incredibile che la versione che abbiamo nella Bibbia potesse essere sopravvissuta per duemila anni ed era ancora intatta come lo è ora. È davvero un miracolo che sia stato in grado di superare il Medioevo quando un'enorme quantità di conoscenza insostituibili fu persa. Sopravvisse anche i vari scrivi traduttori le esclusioni ed inclusioni volontari. Nessuno con una mente razionalmente potrebbe mai aspettarsi che sia la verità letterale parola per parola soprattutto quando i nostri più recenti libri di storia contengono moltissime contraddizioni perfino le storie dei notiziari vadiano a secondo dal punto di vista del giornalista. non dovremmo dubitare delle differenze ma essere grati di aver la storia il fatto che la Bibbia sia sopravvissuta è veramente un dono di Dio. E con questo si conclude il venticinquesimo capitolo. Io vi aspetto domani. Ciao.